E' vero che si possono recuperare metalli dai rifiuti delle nostre apparecature elettroniche? La risposta è una e una sola, sì. Si tratta di rifiuti veramente importanti che oggi debbono essere raccolti e riciclati per ottenere questi metalli. Vengono classificati con un nome, questo nome è RAE, cioè rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche. Hanno un ciclo molto ben organizzato che passa da una raccolta che è ben differenziata e che è seguita tipicamente da dei consorsi. Un esempio per tutti il consorzio Remedia qui di Milano. Una volta che si sono ottenuti questi rifiuti, questi vengono smontati, si ottengono le schede. Per farvi un esempio potete vedere qui una scheda di un telefonino in cui sono stati smontati sopra il microchip o quella di una memoria, di un computer. Una volta che si sono ottenute le schede, queste vengono attaccate chimicamente facendo delle opportune soluzioni chimiche che sono in grado di corrodere la scheda in maniera selettiva, quindi di ottenere sostanzialmente il recupero di un metallo alla volta. Quindi facciamo una soluzione che contiene uno e un solo metallo. Questo è come per fare un esempio, prendere una bustina di tè che contenga tanti tipi di tè e immergendola in soluzioni particolari io vado a ottenere il gusto di un particolare tè alla volta. Questo come viene fatto? Naturalmente vedete la scheda viene ridotta in un tritato, quindi il paragone della bustina di tè è molto calzante, viene poi immersa in opportune soluzioni, qui vedete di colore differente perché cambia la soluzione chimica e cambia il tipo di attacco chimico che andiamo a realizzare e si ottiene la soluzione che ha raccolto quel particolare metallo dalla mia scheda elettronica. Una volta che io ho ottenuto questa soluzione, cambio recipiente, vado in una cella elettrochimica ed ottengo la deposizione selettiva di quel metallo puro. Questo ci permette appunto di riottenere, facendo l'esempio dello zio Paperone, dalla mia spazzatura elettronica ad esempio una bella quantità di oro. Tenete conto che la spazzatura elettronica e i RAE sono ben più ricchi del minerale dal quale io estraggo i metalli vergini per la prima volta. Una classica miniera d'oro, sempre per dare dei numeri, contiene circa 50 grammi d'oro su una tonnellata di roccia. Se io prendo una tonnellata di rifiuto elettronico di schede, io ho almeno 100 grammi d'oro, ho anche circa 300 kg di rame e 100 kg di altri metalli tipo stagno piombo. Queste tematiche sono state studiate all'interno di un progetto Smart City & Community finanziato dalla regione Lombardia che ha coinvolto due grandi comuni, quello di Milano e quello di San Donato Milanese, il Consorzio Remedia, l'AMSA, noi stessi e anche due aziende che hanno poi portato questo processo in scala più grande, quindi Tecno Chimica e il Gruppo Gaze. Grazie a tutti.